Nella tradizione e nei racconti malgasci esistono anche strumenti nobili, che sono famosi, ma sono appannaggio dei grandi artisti e degli ambienti ricercati. Più di tutti sono usati gli strumenti a corde, per esempio il kabusi, che è un tipo di mandolino. L'instrumento si chiama vali, si chiama vali, con il phonetico è vali, è un strumento tradizionale di Madagascar, che fa parte del patrimonio emblematico del paese, fabriquato in bambù, è un strumento artisanale, diatonico, io ho 18 corde, e la particolarità di questo strumento sono le corde, che fanno con i cabli di freddo e di velo. Ecco il valia, è una specie di arpa rotonda, con le corde disposte attorno ad una canna di bambù, con un diametro molto grande che fa da cassa di risonanza, solo i grandi artisti sanno usarla. A 21 corde, una volta si facevano con la corteccia della pianta, ma oggi si usano quelle delle chitarre. I ponticelli si fanno con piccoli pezzi di legno fissati a diverse distanze lungo la canna. I ponticelli si fanno con piccoli pezzi di legno fissati a diverse distanze lungo la canna. Poi abbiamo il maruvani, una specie di cetra, simile a una scatola, con due serie di stringhe sui due lati opposti. È particolarmente diffuso al sud e viene usato anche qui a Zangani. Il jeji vuatuva, invece, è uno strumento del gruppo etnico dei Bezilei, è ricavato dalla pianta del calabasch, con due insiemi di corde che sono a 90 gradi fra loro. Ma a Zangani, dove vive la tribù dei Bara, si usa molto il lukanga, un violino a tre corde. In questo video suona Digeri, un musicista famoso che è proprio della tribù dei Bara. Il brano si intitola Horombe, che, sapete, è l'altopiano dove si trova Zangani. Infine, abbiamo altri strumenti non a corde. C'è chi sa costruirsi qualche flauto, come il sodina, e lo suona come capace. E si usa il kipanzuna, un tamburo e dei timpani che possono essere portati anche nelle sfilate. I complessini moderni, invece, usano gli stessi strumenti dell'Europa, chitarre elettriche, fisarmoni, cattoni, pianoforte. Ma bisogna dire che i malgasci li usano con una loro particolare genialità. Uno famoso è Régis Gisavu, ha suonato anche con il grande musicista Manu Dibango. Questo regime è della tribù dei Malaso, l'etnia che deruba Zangani, dove invece ci sono i Bara. Potete vedere questi Malaso, anche nei disegni che ci sono arrivati da Zangani. Li trovate nel libro Il gusto della legalità, pagina 23. Il gusto della legalità, pagina 24.